L'amore Dove Gesù ci vuole condurre? Vedete, Antonella e Federico, voi oggi state edificando una casa, la vostra casa. E l'amore è un'arte. Tutti noi ci portiamo nel cuore il desiderio di amare e di essere amati. Fa parte della nostra esistenza. Prova ne è che vogliamo essere felici. Non c'è uomo, non solo qui tra noi, ma dovunque, che non porta dentro di sé il desiderio di raggiungere quell'obiettivo nella vita, essere felice. Felice è una persona non che ha. Felice è una persona che dà. E per voi che cosa significa dare? Significa dare tutto a voi stessi. Voi siete chiamati ad amarvi, cioè dando la vita l'uno all'altro. In questa osmosi d'amore troverete la vostra felicità. Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti. Antonella, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Federico, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie. Grazie. Grazie.